Tante volte c'è una rassegnazione rispetto a un sorriso che imbarazza, che non piace, che per qualche motivo insomma non è equilibrato e c'è forse un po' la mancanza di speranza nel fatto che possa essere in qualche modo sistemato. Ora in questo campo e nel mio campo proprio ci sono state delle evoluzioni e dei cambiamenti direi epocali per cui oggi qualcosa si può fare. Quindi quale che sia l'aspetto dei denti non felice perché se sei felice uno non si rivolge, vale la pena secondo me di sentire un parere tecnico per capire se senza fare delle cose devastanti tipo ricoprire tutti i denti o cose del genere è possibile ottenere un'armonia, una grazia nel sorriso. Questa è la mia specialità, io amo molto questo lavoro, amo molto queste trasformazioni e le vivo come delle sfide. Stasera ho portato un po' di casi, la maggior parte molto recenti, per fare un po' vedere come si può avere molto, tutto sommato con interventi modesti. Poi ho portato anche qualche caso di quelli che piacciono a tutti, belli, denti belli eccetera eccetera. Però insomma secondo me sono più interessanti i recuperi, ecco diciamo così. Come ha detto il mio paziente, ma lei dottorenza tutto sommato è una restauratrice, forse si potrebbe dire così. Questo è un caso recentissimo, anzi lo sto ancora facendo. Allora questa signora, che è una signora giovane e carina, aveva un diasteme inferiore enorme, che nella foto si vede o non si vede, ma vedete quella riga nera, c'è manca il dente lì. Poi aveva i due denti davanti accavallati, delle ricostruzioni naturalmente fatte maluccio, scure e tutti i denti rovinati. Allora qui abbiamo fatto un bel cambiamento secondo me. Allora sbiancati i denti scuri, rifatte le otturazioni e gli spigoli, ma soprattutto chiuso lo spazio sotto, infatti nella seconda foto sorride un po' strana perché volevo che si vedesse. Voi vedete che tutto sommato questo per me è un bel sorriso, cioè non sarà la perfezione, però un bel sorriso per una persona che aveva un grosso complesso e non abbiamo fatto cose, abbiamo due additional sotto e rifacimento e diciamo delle otturazioni, sbiancamento dei due incisivi, tutto sommato è un risultato buono. Queste sono le cose che magari uno non spera di poter ottenere, invece si possono ottenere. Altro caso, questo è un caso mancanza dei laterali, vedete che i due canini sono posizionati al posto dei laterali, assortimento di colori, un dente chiaro, un dente scuro, eccetera. Non ho fatto uno sbiancamento generale, ma ho sbiancato i denti più scuri, per cui non sono nessuno alla fine chiarissimo, ma sono tutti uniformi, che è quello che io dico sempre conta di più. Cambiamento di forma di questi canini con due additional li ho fatti diventare dei laterali, e anche questo sorriso qui è un sorriso gradevole, non sarà... Ma molto naturale tra le altre cose, nel senso che l'ha tenuto molto armonioso. L'ho tenuto armonioso, vedi che anche le proporzioni sballate, ballate, i due incisivi, vedete che sono tutti inclinati da una parte, abbiamo raddrizzato la linea che li separa, cioè fra il sorriso di prima, che era un complesso per questa signora giovane, e il sorriso di dopo, c'è tanta gioia nel sorridere. Mi spieghi un attimo, perché lei chiaramente ha lasciato, tra virgolette, queste imperfezioni non a caso, nel senso per renderlo più naturale, ma c'è qualche uno invece che poi ha detto, sì però io me li aspettavo così, e poi invece col tempo ha capito che la scelta era giusta. No, 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 non mi è successo quasi mai. Quindi capisco subito. Direi che adesso sto facendo un caso che porterò, lo finisco giovedì, lo porterò quindi in gennaio, di un ragazzo che è scoppiato a piangere. Per l'emozione? No, è scoppiato a piangere perché lui non credeva di poter avere, di solito l'aspettativa è più bassa, non più alta. E quindi è emozionato nel vedersi così. Emozionato dal fatto che veramente... Non pensava che potesse arrivare tanto. Non pensava, sì, difficilmente uno mi dice no, vorrei di più, vorrei più perfetto. Quindi questa è anche chiaramente la stima che si ha nei suoi confronti, come quale professionista, e poi oggettivamente, probabilmente, è arrivare laddove c'è la pseudo-perfezione. Quindi probabilmente loro vorrebbero quello. Ma loro vorrebbero non vergognarsi, devi pensare, più di tutto, perché è imbarazzante un sorriso di cui ti vergogni. Ecco, e di solito, sì, di solito lo ottengo. Sai che a me piace questo lavoro, mi piace tanto. Vediamo ancora qualche caso. Dopo io ho una domanda da farle. Eh? È una domanda? Dopo io ho una domanda da farle, sì. Ecco, questo qui, vedete, è un... questo qui si chiama morso aperto, cioè denti corti, lingua in mezzo, denti separati. Qui non è possibile ottenere un sorriso normale, perché non... questo non ha la chiusura, chiude testa a testa, no? Cioè i denti sopra non sovrastano i denti sotto, però vedete, allungando i superiori, chiudendo gli spazi degli inferiori, che sono molto brutti, questo signore, che tra le altre cose è un bel signore, è uscito con un sorriso molto normale. Vero. Chiude sempre come prima, cioè sbagliato, però è una cosa che passa via e resta gradevole, armoniosa. Qual è la tua domanda? Sentiamo. Allora, in questi giorni viene trasmesso nei cinema un film sui La vita di Queen e Freddie Mercury, e io non lo sapevo, però questa dentatura particolare era causa da quattro incisivi in più rispetto al normale. Ah, sai che non l'ho mai guardato? Il sorriso di Freddie Mercury. Io non volevo sapere. Non l'ho mai guardato, ammesso. Volevo sapere, guardiamo se troviamo una fotografia, e volevo sapere se era il caso, per esempio, di... Lui aveva questi denti molto marcati, cioè molto... adesso c'è un'immagine che io ho messo in questo momento che può mostrarlo. Sarebbero stati da ritoccare, si potevano ritoccare con l'estetica? Beh, non lo so, il colore è molto bello. E sono molto grandi, sono molto in fuori. Sì, sono molto grandi, molto in fuori. Quindi era un lavoro che si poteva comunque fare, o al tempo non si poteva fare. Ma secondo me all'epoca di Freddie Mercury queste cose non si facevano. Non c'era ancora la possibilità. Secondo me non c'era proprio no. Tecnicamente non credo. Tecnicamente non credo. Ok, era una mia curiosità. Però guarda, ha colpito te, però io devo dire che ho visto tanti video di Freddie Mercury e mai mi ero soffermato sui suoi denti. No, beh, guardi dottoressa che hai saputo. E si vede che io sono meno impallinata di quello che... Si vede che ne vede talmente tanti, probabilmente ormai gli escono dagli occhi. No, non lo so, adesso andrò a vedere perché veramente mi incuriosisci. No, questa è un'altra signora, questa è una signora veramente graziosa e veramente questo difetto enorme di questi due denti più lunghi che non è stato mai corretto e invece lasciamo stare che sono stati anche sbiancati. Però la cosa che ha cambiato completamente è stato il fatto di riproporzionare questi denti perché mica sempre i denti... Allora, normalmente i denti escono con delle forme, con delle cose che è genetico. Però ci sono delle anomalie, come in questo caso. Il dente è molto lungo e nessuno mai ha pensato di fare niente. Per questi denti salvo proporre di coprirli. Mentre invece rimodellandoli e rimettendoli in asse è di idee che è diventato un sorriso regolare. Cioè proprio anzi come forma, anche graziato come sorriso. Però bisogna, sai cosa c'è? Bisogna saperci mettere le mani su queste cose qua. Cioè devi sapere che cosa puoi ottenere. Questo è l'aspetto difficile del mio lavoro, non è tecnico. L'aspetto difficile è avere in mente che cosa si può fare. Cioè l'indicazione è l'aspetto difficile. Poi la messa in pratica dell'indicazione non è così difficile. Ma io credo, dottoressa, che sia anche un po' bivalente. Nel senso ci vuole molta tecnica, molte capacità, ma ci vuole anche quel gusto che non è così spontaneo. Lei dice giustamente che ci sono delle regole per la simmetria e tutto il resto. Ci sono delle regole, però c'è un senso dell'estetico che è molto personale. Anzi, delle volte mi chiedo se riesco a trasmettere questa cosa. Perché veramente è una cosa che io prima ho in mente e poi realizzo. Però come mi venga in mente, francamente, neanche lo so. Cioè seguo delle regole, certo, seguo delle regole. Però sì, tante volte... Ecco, anche questo è un bellissimo caso, per esempio. Questo è un giovane uomo. Questi sono i suoi denti. Sono denti sani. Se vogliamo dire sono pure belli, ma certamente quel sorriso lì non è bello. Non è bello perché sono con questa forma sgraziata. Quindi qui abbiamo fatto additional, qui ho fatto degli additional. Gli ho ridato una forma, vedete, più bombata. Ho chiuso gli spazi e tutto. E da questo sorriso sgraziatino, pur se con denti belli, è uscito un sorriso, direi, bellissimo. Il colore era già suo. Sì, invidia totale. Il colore, sì. Questo era già il suo colore. Infatti così rende. Abbiamo l'ultimo caso. Ancora un caso. Vediamo cosa... Ah, questo qui l'ho finito giovedì scorso. Questo è un ragazzo, con la barba, i baffi, un bell'uomo, veramente. E questi qui sono due conoidi, questi laterali fatti a punta, canini molto appuntiti, sorriso da lupo. Grande e complesso per questo sorriso. E qui ho cambiato tutte le forme, vedete, aggiungendo, ammorbidendo un po' i canini, riempiendo gli angoli e soprattutto dando ai conoidi la forma di laterali. E c'è un cambiamento importante, sì. Verissimo. Bello questo caso. È cambiato totalmente anche lui. Sì, ho finito martedì. Allora, ricordiamo il sito internet, antonellaudeschini.it. Qui si possono ritrovare le informazioni, chiaramente anche nella sezione contatti possiamo contattare la nostra dottoressa e i nostri professionisti. Come vedete c'è lo studio a Milano e c'è lo studio a Brescia. Noi chiaramente consigliamo lo studio di Borgo Wührer 119 a Brescia. C'è uno spazio, chiaramente, anche nella rete, come dicevamo, per consultare il materiale della nostra dottoressa, Antonellaudeschini, odontoiatria estetica e cosmetica, che tornerà, chiaramente, prossimamente. In gennaio. Intanto, buon Natale e tanti auguri a tutti. Grazie mille, dottoressa. Arrivederci. Grazie mille.